L'intervento di riqualificazione della Galleria Umberto è articolato in più progetti, in più interventi che hanno anche tempistiche e modalità diverse. C'è il restauro della pavimentazione, il cui progetto è stato curato dalla sovrintendenza, che è un progetto oramai completo e validato. Ci aspettiamo che la durata del cantiere sia di circa un anno. Il Comune ha realizzato anche un programma di gestione del cantiere, che prevede naturalmente un uso continuo dello spazio della Galleria. La delicatezza dell'apposizione di manufatti contemporanei rispetto a un'architettura storica che ha delle caratteristiche molto peculiari, questo ha condotto alla decisione di realizzare le chiusure di due dei quattro varchi, quella su via Santa Brigida e quella su via Verdi. Per giugno contiamo di avere il progetto esecutivo compiuto e validato e dunque per la fine dell'anno completare questo progetto realizzando effettivamente le due chiusure annunciate. Nel frattempo è in corso un'attività di manutenzione della copertura in ferro e vetro della Galleria, quindi il Comune complessivamente sta realizzando gli interventi sulle parti che sono tra l'altro di proprietà pubblica, laddove invece il resto della Galleria appartiene a proprietari privati.